Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Un anno fa il duplice omicidio di via Benedetto Varchi, nel quale morirono Sara Ruschi e Brunetta a Ridolfi uccise a coltellate da Javad Disham. Ad un anno di distanza dopo la condanna in primo grado la difesa dell'uomo ricorre in appello. Era la notte tra il 12 e il 13 aprile 2023 quando Javad Disham uccise con 23 coltellate la compagna Sara Ruschi e la suocera con tre fendenti all'interno della loro abitazione di via Benedetto Varchi ad Arezzo davanti ai figli della coppia. All'epoca un ragazzo di 16 anni e una bambina di due. Per il duplice omicidio il 37enne era stato condannato all'ergassolo dal tribunale di Arezzo. Adesso ad un anno di distanza dall'elitto la difesa dell'uomo ha presentato istanza d'appello come già annunciato a conclusione del processo di primo grado. Diciamo le argomentazioni giuridiche in punto di sussistenza dell'aggravante sono quelle che sono la questione di rimente di questo processo e che verranno coltivate fino in Cassazione. Secondo la difesa dell'uomo tre i motivi da considerare in corte d'assise d'appello a Firenze. Non ci sarebbe dunque l'aggravante della convivenza stabile e del rapporto affettivo in atto. Giovanni e Sara si erano già lasciati. L'uomo sarebbe rimasto nell'abitazione di via Varchi in attesa di trovare una nuova soluzione. Secondo la difesa poi non è stato risposto l'accertamento psichiatrico sui disturbi manifestati dall'uomo per chiarire i dubbi esistenti. Il legale aveva già avanzato la richiesta di sottoporre il 37enne perizia psichiatrica alla corte d'assise che però l'aveva rigettata. Il legale chiede infine che vengano concesse le attenuanti generiche non riconosciute dal tribunale di Arezzo che aveva inflitto la pena massima. Javad Disham adesso si trova in carcere a Prato dove sta scontando la pena. Ancora un episodio violento ai giardini della Porcinai. Oggi pomeriggio una lite furibonda nella quale un uomo sarebbe rimasto ferito in modo lieve e gli altri si sono dileguati invece prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'episodio si è consumato sotto gli occhi increduli di passanti e commercianti. Nelle scorse settimane erano stati gli stessi esercenti della zona a raccogliere firme e si erano rivolti alla prefetto per chiedere una maggior sicurezza. Nel fine settimana i giardini del Porcinai erano stati teatro di un'altra rissa e qualche giorno prima di un tentato omicidio. Quattro invece sono le patenti che la Polizia di Stato ha ritirato questo fine settimana nel corso dei controlli sulle strade per evitare le cosiddette stragi del sabato sera. E' stato sorpreso dalla Polizia ubriaco al volante e in auto con lui c'erano tre amici ma nessuno di loro era sobrio. Tutti sono infatti risultati con un tasso alcolemico superiore al consentito. Non solo due avevano anche consumato cannabis. Gli agenti di Polizia a questo punto hanno dovuto chiamare un quinto amico negativo all'alcol test che li ha potuti accompagnare a casa in tutta sicurezza. Così la serata per quattro giovani, tutti con meno di 25 anni, due dei quali neopatentati, è finita con altrettante patenti ritirate. Questo è uno degli episodi che si sono trovati di fronte agli agenti lo scorso fine settimana durante un servizio notturno volto a contrastare il fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera causate da chi guida in stato di ebrezza alcolica o alterato dall'uso di sostanze stupefacenti. Numerose le pattuglie della stradale scese in campo che si sono avvalse della collaborazione del medico e del personale sanitario in servizio presso la questura così da poter verificare direttamente su strada utilizzando tamponi salivari anche l'eventuale del consumo di droga. I controlli effettuati nell'immediata periferia retina e lungo le direttrici che conducono ai luoghi di svago presenti in provincia hanno interessato 92 persone, 40 delle quali poiché conducenti sono state sottoposte a verifica delle condizioni psicofisiche. La scorsa settimana il maxifurto d'argento in un'azienda di preziosi della Valtiberina, un colpo studiato nei minimi dettagli che fa tornare a preoccupare non poco l'intero comparto. Sinceramente quello che possono fare le aziende hanno già dato il massimo perché hanno tutte all'interno dei propri locali il massimo della tecnologia a disposizione. Certamente quando arrivano dei professionisti perché questi che stanno facendo i colpi nelle nostre aziende sono dei professionisti e sanno come muoversi per ritardare l'arrivo delle forze dell'ordine o mettere fuori posto gli allarmi te fai tutto ma c'è bisogno delle forze in campo che tutelino, che prevedano, che comunque dissuadano i malfattori a fare il loro lavoro. Così Mario Benvenuto, presidente di CNA Orafi Arezzo, sugli assalti alle aziende Orafi Aretine, l'ultimo in ordine di tempo ad una ditta che lavora argento. Secondo Benvenuto l'obiettivo dei malviventi ormai non è più solo l'oro ma appunto anche l'argento in virtù del balzo in avanti notevole del prezzo dei metalli preziosi. L'oro per il suo costo ha sempre fatto molta gola a questi malviventi e adesso che il costo dell'argento sta salendo è stato di presso di mira per la prima volta un'azienda grossa delle nostre vallate produttrice d'argento. Quindi è questa la differenzazione. A Arezzo c'è mille aziende. Iniziando a colpire anche le aziende d'argento adesso siamo tutti sotto rischio. Arezzo sostiene ancora Benvenuto non può essere considerata sotto il profilo della dotazione delle forze dell'ordine come qualsiasi altra città. La nostra città lavorando una materia prima così costosa non può essere equiparata a un'altra città che ha lo stesso numero di abitanti. Noi purtroppo siamo una città a carattere molto speciale avendo questo tipo di lavorazione devono avere un occhio di riguardo nell'inviarci del personale che ci difenda perché a lavorare quando ero piccolo io volevo fare questo mestiere ci sono riuscito sono tanti anni che lo faccio ma non pensavo che quando vai a lavorare è a rischio anche la tua azienda il tuo lavoro. Questo dipende dallo stato che deve venirci incontro. In Valdarno ancora un grave atto contro gli animali. Dei gattini appena nati sono stati infatti abbandonati all'interno di un cassonetto. Sono stati trovati chiusi dentro un sacchetto di plastica gettati in un cassonetto. Nonostante le cure uno dei tre gattini non ce l'ha fatta. Un ennesimo atto gravissimo contro gli animali come denuncia la sezione EMPA di San Giovanni Valdarno che adesso si sta prendendo cura dei piccoli felini sopravvissuti. È successo in località Pestello nel comune di Montevarchi. I gattini sono salvi grazie a due donne che hanno sentito miagolari e hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, gli operatori di Sei Toscana e i vigili del fuoco per aprire il cassonetto di nuova generazione. Faremo come sempre del nostro meglio per provare a portarli avanti nonostante il tasso di mortalità nei neonati così abbandonati sia veramente alto, affermano da EMPA. Siamo come sempre senza parole, solo rabbia e disperazione. L'associazione chiede anche l'aiuto di chiunque possa aver visto qualcosa. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato ma un triste copione che si rinnova anno dopo anno, riga dopo riga. EMPA invoca così alla sterilizzazione, unica strada percorribile per ridurre il triste fenomeno degli abbandoni. Dal 2013 l'associazione nel territorio valdarnese sterilizza circa 600 gatti all'anno, ma nonostante questo sfiorano quota 300 i felini che annualmente vengono recuperati e fatti adottare dalla sezione EMPA di San Giovanni Valdarno. Ammonta a quasi 3 milioni di euro la somma che la regione toscana metterà a disposizione di 7 comuni che hanno presentato richiesta relativa alla finanziamento per la riqualificazione di beni confiscati alle mafie. In provincia di Arezzo è stato il comune di Marciano ad aggiudicarsi il finanziamento del progetto a cui andranno 500 mila euro. Con questo contributo verranno riqualificati 19 appartamenti e 22 box auto distribuiti su due edifici plurifamiliari dell'abitato di Cesa da destinare edilizia residenziale pubblica, asilo nido edilizia residenziale sociale. E sempre dalla regione toscana 10 milioni di euro per effettuare i lavori di ripristino e manutenzione degli alloggi di edilizia popolare sfitti perché vengano rapidamente riutilizzati. L'intervento permetterà secondo le stime di rimettere rapidamente a disposizione circa 500 alloggi a beneficio di chi è in attesa in tutta la regione. Questo intervento fa parte del piano regionale per la casa, approvato di recente e confermato e conferma quanto la regione ritenga decisiva la questione abitativa per contrastare la povertà e la marginalità sociale. E adesso parliamo di sanità. Crescono in tutta la Toscana le donazioni di sangue. Il 2023 è stato così definito l'anno della ripresa. Nel 2023 sono state superate le 206 mila donazioni di sangue in Toscana, l'1,2% in più rispetto all'anno precedente. Oltre 45 donazioni ogni mila residenti solo per la produzione di globuli rossi contro 40 che era l'obiettivo e nei primi mesi del 2024 la crescita si è fatta ancora più robusta con donazioni aumentate ulteriormente del 10%, sangue ma anche plasma, il che costituisce un dato incoraggiante visti i numeri in calo durante la pandemia. Il plasma infatti è fondamentale per la produzione di farmaci salvavita come le immunoglobuline, l'albumina o i fattori della coagulazione e l'aumento delle donazioni costituisce una garanzia di cura per tutti i pazienti oltre alla possibilità di proseguire progetti di cooperazione internazionale in corso. Il 2023 dopo anni difficili può essere dunque scritto come l'anno della ripresa, merito soprattutto della straordinaria disponibilità di 116 mila donatori e della dedizione dagli operatori sanitari. L'89% delle donazioni sono state effettuate da iscritti ed associazioni, una tra le percentuali più alte a livello nazionale. Importante è stata anche la gestione dell'estate, grazie ad una strategia condivisa tra assessorato regionale, ASL, associazioni di volontariato e centro regionale sangue non sono state registrate carenze estive e così non è stato necessario ricorrere all'aiuto di altre regioni. Un risultato dunque che consente di guardare con fiducia alla prossima stagione calda. Ancora sanità ma ci spostiamo in Valdarno. È Filippo Francalanci, il nuovo direttore di Ossetrice e Ginecologia dell'ospedale Valdarnese. La firma dell'incarico della durata di cinque anni di tipo esclusivo sta mani nella sede direzionale dell'Asla Toscana Sud-Est davanti al direttore generale Antonio Turzo. Il nuovo incarico decorre da oggi. Unire le forze per promuovere la salute generale, fare squadra per aiutare le vittime di violenza di genere, grazie al codice rosa, sono invece gli obiettivi del nuovo coordinamento interaziendale tra azienda ospedaliera universitaria senese e azienda asla toscana sud-est che comprende appunto le province di Arezzo, Grosseto e Siena e che sperimentano questo nuovo modello di governance. Il coordinamento sarà guidato da Vittoria Doretti, responsabile della rete regionale Codice Rosa e svolgerà funzioni di programmazione complessiva e monitorerà il funzionamento delle reti e le risorse e la revisione delle procedure del Codice Rosa. Arezzo invece è pronto ad ospitare un convegno di interesse nazionale sul collegamento tra disabilità intellettive e lavoro. Giovedì 18 aprile il Teatro Pietro Aretino sarà infatti sede della seconda edizione del convegno NOE, promosso dall'Istituto Agazzi che proporrà uno scambio di esperienze, evidenze scientifiche, e buone pratiche finalizzate all'affermazione dei diritti delle persone con disabilità. E adesso voltiamo pagina. Nasce infatti dall'intesa tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro il nuovo progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e paesaggistico del territorio. Un itinerario artistico, culturale e paesaggistico tra capolavori unici di Piero della Francesca, Bartolomeo della Gatta, Donatello e altri grandi maestri del Rinascimento. Il progetto Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana è stato siglato dai comuni di Sansepolcro, Castiglion Fiorentino, Citerna e Monterchi. Un itinerario di poco più di 40 km da percorrere in un contesto paesaggistico incantevole arricchito da una straordinaria offerta enogastronomica. Una vera mostra permanente e diffusa di capolavori dell'arte frutto della propensione a produrre bellezza e della capacità di conservarla di un intero territorio. L'obiettivo è realizzare un sistema di comunicazione e promozione, creare strumenti digitali con contenuti originali e in doppia lingua italiano e inglese come un portale web dedicato, una campagna fotografica e un virtual tour aereo per l'intera area. Il progetto prevede anche la produzione di eventi significativi. Il primo sarà il prossimo 26 di aprile a Sansepolcro, un alezio magistralis a cura del critico d'arte Vittorio Sgarbi tra i sostenitori del progetto. Serata d'eccezione alla Cinema Edena per la proiezione del film d'esordio alla regia di Margherita Vicario, Gloria. L'appuntamento è per sabato 20 aprile e la proiezione dell'eventuno sarà arricchita anche dalla presenza in sala della giovane cantautrice, attrice e regista romana che a fine proiezione si fermerà per rispondere alle domande del pubblico. E torna anche la danza in città ad Arezzo, il campus aretino infatti è pronto a rinnovare il proprio format. In danza in arte, raddoppia. Il campus di danza della città di Arezzo è infatti pronto a rinnovare il proprio format e giunto alla dodicesima edizione verrà arricchito dall'organizzazione di un vero e proprio festival che permetterà di assistere agli spettacoli di compagnie e danzatori di spessore internazionale. La rassegna in programma da sabato 20 a domenica 28 luglio con lezioni in tutte le discipline della danza, la consegna di borse di studio per accademie e l'audizione per il secondo anno del progetto CAB collettivo Arezzo Ballet. Sarà aperto ovviamente agli allievi dai 16 anni in su proveremo ovviamente a formare un'altra classe del collettivo e portare avanti questo progetto che è ormai una delle nostre missioni più importanti come associazione di progetti per la danza. Il collettivo Arezzo Ballet riunisce una selezione di ballerini e ballerine da tutta Italia a cui l'associazione Progetti per la Danza sta proponendo un percorso di crescita professionale. La nostra ambizione è sicuramente quella di portare avanti un gruppo di ragazzi che abbiano voglia di studiare e che sia questo poi nella loro formazione e soprattutto nella loro vita cioè proprio il loro intento quello di diventare dei ballerini. Cercheremo di dargli il più possibile quindi dall'aspetto didattico e formativo ovviamente è fondamentale affinché loro abbiano tutti i requisiti necessari per poter poi affrontare audizioni, provini, partecipare a casting e poi far parte comunque di un collettivo è un'esperienza formativa in tutti i sensi. Passiamo alla pagina dello sport, al calcio. Ieri sera il Comunale contro la Sassari-Torres. La partita si è conclusa 1-1. La Torres in vantaggio al dodicesimo con Zecca. Risposta immediata a Maranto con Gucci alla quindicesimo. Un pareccio che dunque alla fine accontenta tutte e due le squadre per gli obiettivi finali di campionato. Il punto casalingo conquistato accompagna infatti l'Arezzo all'ingresso dei play-off. De loro molto bravi. Il primo tempo credo a livelli proprio superiore alla categoria. Noi ce l'abbiamo fatta nel primo tempo a reggere, a finirlo in parità. E poi il secondo tempo invece siamo stati bravi. Il secondo tempo forse forse meritavamo più noi, però il primo tempo loro è di alta qualità. Molto bene Gaddini. Oltre alla pulizia di Giovanni il primo tempo c'è anche la traversa del secondo. Così, Gucci è un altro gol. Non pretendiamo sempre, sempre il massimo, massimo, massimo. Lo possiamo ottenere. L'approccio forse non è stato dei migliori da un punto di vista tattico. Forse potevamo fare un po' meglio. Siamo stati bravi a riprenderla subito. Non era assolutamente facile contro una squadra così forte, così organizzata. Nel secondo tempo, sì, ci siamo registrati un attimo dal punto di vista organizzativo in campo è andata meglio. Poi loro lasciavano qualche spazio e con le nostre caratteristiche siamo riusciti ad andare a fargli un po' male. Peccato non aver fatto gol e portato via tre punti, però, come hai detto, è un buon punto contro una squadra forte. Non a caso è la prima delle altre normali e quindi ci teniamo questo bel punto. Noi siamo partiti con il primo obiettivo, che era quello di mantenere la categoria. Poi con il lavoro, mese dopo mese, penso che ci siamo guadagnati questa possibilità. Ancora c'è da conquistarla. Una volta conquistata, spero il prima possibile, magari avere anche la possibilità di migliorare le posizioni. Quindi stiamo bene, vogliamo regalare ai tifosi ancora qualche soddisfazione. La ginnastica Petrarca vola i campionati italiani giovanili. Il fine settimana ha regalato particolari soddisfazioni alla società retina che è esultato con le ragazze delle squadre allievi di ginnastica ritmica ai ragazzi della categoria allievi di ginnastica artistica maschile che in contemporanea sono scesi in pedalo nelle rispettive zone tecniche interregionali dove hanno conquistato ben quattro qualificazioni per le finali nazionali. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.